Un tranquillo weekend di paura, trappola in alto mare, lo squalo, titoli di opere cinematografiche? Certo, e tutte stranamente in grado di riassumere quanto accaduto un sabato estivo tranese. Sullo sfondo di una tintarella generale, mentre tutti cercano di diventare abbronzatissimi, si odono in lontananza grida di aiuto di alcune ragazze, che hanno avvistato due pinne, sinistre, inquietanti, senza fucile né occhiale. E allarme, anche fra i bannini, lontani parenti di quelli visti in un noto telefilm americano, ma che comunque riescono a trarre in salvo le ragazze, travolte da un insolito destino nell'azzurro mare di luglio. Poi si svela il trucco, una singolare trovata commerciale per ricordare l'inizio dei saldi, al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta, con tanto di coupon e giochi estivi per i bagnanti. Gli sconti sono arrivati, si saldi, si salvi, chi può. Bene, il marketing arriva in spiaggia in maniera divertente e allegra. Si tratta di una forma pubblicitaria diversa da quella tradizionale, praticamente non convenzionale, per promuovere l'inizio dei saldi estivi al Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta. Ovviamente avete anche delle creme antiscualo, no? Certamente, diciamo che è una gag simpatica, proprio per cercare di differenziarci un po' da quelle che sono le solite forme pubblicitarie del momento, e ormai i saldi si comunicano con i mezzi tradizionali. Invece nei Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta cerca sempre di trovare un'idea divertente per cercare di creare stupore tra, in questo caso, i bagnanti del Lido. E poi l'archivio nel disco per ripartire. 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 E poi l'archivio nel disco per ripartire.